Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, puntata che è stata senza ombra di dubbio scoppiettante, come non mai, e ricca di colpi di scena. Basti pensare che abbiamo assistito all'eliminazione di ben due concorrenti, ossia Natalie Caldonazzo e Alessandro Basciano. Inoltre, attualmente al televoto, troviamo cinque grandi protagonisti di questa edizione del GF VIP, ovvero Giucas, Miriana, Antonio, Davide e Sofi, e uno di loro giovedì dovrà abbandonare per sempre la casa più spiata d'Italia. Per l'appunto, Davide Silvestri è rimasto molto deluso dalla votazione di Lounou Selassie, che credeva sua amica. In effetti, dopo la puntata l'attore di Vivere si è sfogato con alcuni compagni d'avventura e, tra parole grosse e strategie avvelenate, ha spiegato di avere già pensato a come vendicare. Vediamo cosa ha detto. Difatti, dopo la diretta, il cugino di Checco Silvestre ha ammesso a Barù e Soleil di non aver preso bene la decisione della principessa Etiope, definendola una bugiarda. Loulou è doppio giochista e proprio bugiarda, che schifo. La massacro. Non le rivolgerò più la parola, ha infatti dichiarato. Anche se ha già pensato alla sua vendetta. Gliela farò pagare. Giovedì nominerò Jessica o ha quindi confessato, spiegando di voler nominare Jessica poiché Loulou è già in finale e la persona a cui ovviamente è più legata è sua sorella. Inutile dire che i telespettatori del reality hanno commentato in modo molto duro le parole di Davide e, a detta loro, ha veramente esagerato. Ma la cattiveria di Davide stamattina per la nomination di Loulou? Parla di vendicarsi, meno male, a 40 anni e non 15. Fa paura. Si legge appunto sui social. Insomma, stavolta Silvestri non ha ricevuto i consensi del pubblico. Ed è probabile che per questa reazione verrà eliminato dagli spettatori.